L'Agropoli perde 2-0 contro la Vibonese, prima sconfitta dell'Era degli Santi. In un 11 con molte defensioni il tecnico Tarantino schiera dal primo minuto in acquisti Giraldi, Ottonello e Ragosta. La prima mezz'ora è soprattutto di studio per le due formazioni con l'unica occasione che arriva su piatto di Marasco che su suggerimento di Brescia non riesce da pochi passi a superare il portiere bianco-azzurro Capozzi. Il gol degli ospiti arriva però al 33esimo, grazie a Spanò che in acrobazia conclude una confusa azione in area di rigore agropolese. I cilentani accusano il colpo, provano a rifarsi sotto ma nessuna conclusione riesce ad impenserire il portiere vibonese. Bisogna così attendere il secondo tempo per vedere nuovamente gli estremi difensori delle due squadre impegnati. L'Agropoli nella ripresa gioca meglio, ha in mano il pallino del gioco ma sono nulle le conclusioni a rete. La vibonese invece è attendista, lascia giocare l'Agropoli e poi prova a far male sulle ripartenze. In più occasioni è Marasco a rappresentare una vera e propria spina nel fianco della difesa agropolese. Il numero 9 della vibonese ci prova al dodicesimo minuto ma la sua conclusione finisce fuori. Al quattordicesimo ma viene questa volta fermato dal palo. E al diciassettesimo ma la sua conclusione in questo caso è debole. Nel momento migliore degli ospiti i Delfini hanno la possibilità per pareggiare. Al venticinquesimo cross di Ragosta dalla sinistra, Mallardo in tuffo, prova a far gol ma la palla viene respinta sulla linea. La legge del calcio è inclemente per l'Agropoli. Gol sbagliato, gol subito. E al trentottesimo è ancora Marasco a mandare in tilt la difesa bianco-azzurra, questa volta però efficace. La sua conclusione 2-0, Capozzi battuto e partita praticamente chiusa. A nulla serve il forcing finale dell'Agropoli, il risultato non si sblocca più.